Pippo, buongiorno, mi parrucisco, sono. Disturbo? Velocemente, solo informativo, cos'è successo a Priolo che la fumata nera si vede da ortigia? Ah, sta bruciando perché l'hanno acceso o sta bruciando perché c'è un incidente? Ho capito, va bene, erano solo queste... Ok, era solo per avere questo tipo di informazione, va bene, ok, ti ringrazio, va bene, ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie.